L'OVIA Ti ho detto che io qui non ti voglio, ti ho detto che in questa casa non ti voglio, capito? Non ti voglio in questa casa, te le devi andare! Mazzale via! Ti è dallo più a tua madre! Allora ti vuoi muovere o preferisci un buco in testa? E non cercare di fare lo stronzo come me che ti mando al creatore! Fuori c'è nessuno! Vieni qui a darmi una mano, metti i soldi nella busta! Duca! Duca! Sai come è dalle nostre parti difficile trovare un lavoro serio. Quindi io a lavorare in campagna fai il muratore. Io e Giacomo preferivamo cazzeggiare. E quando ci mancava qualche soldo facevamo una ragione. All'inizio uno ha paura, ma poi è facile, è come una droga. Non puoi più farne il muro. Io sono Franco Forgione. Elias. Da soli contro la droga non si fa molta strada. Sono pazzo e ho perso la vita! Sto diventando pazzo! No, non stai diventando pazzo! Stai un tanto contro il tuo male! È bello guardare il mare quando è calmo. Mi fa sentire come una persona felice. Perché dimenticati tutti i problemi che hai? Quando sono triste vengo sempre qui. Esiste un tempo in cui ognuno di noi deve fare i conti col proprio passato. Se quel giorno la notte vi sembrerà terribile e non avrete più nulla da vedere o da afferrare allora non avrete neppure nulla da cercare. Ma se guardando uno spiraglio di luce nel buio della vostra coscienza vi accorgerete che esiste ancora una speranza nella quale credere allora ogni cosa sarà possibile. Anche cambiare. Alla prossima! Alla prossima!